La prima edizione del premio Città di Prato, finanziato dal Comune, destinato ai giovani laureati presso le università italiane, contesi che hanno come oggetto il territorio pratese, è stato finto da Fabio Iacometti, Gemma Moretti e Martin Taglianetti. Allora io ho cercato di far sì che lo spazio pubblico diventasse il motore della rigenerazione urbana in queste città che hanno vissuto questa crisi pandemica e quindi i spazi collettivi sono quelli che sono stati coinvolti in prima battuta, quelli dove poi la gente vive. È un modello di business tipico del settore tessile pratese e quindi il riciclo delle materie prime tessili e degli scarti tessili, dando così un approccio circolare all'industria tessile e moda. Ho cercato di raccontare le nostre mura, che è un tema che mi ha sempre appassionato, ho voluto più che altro integrare il patrimonio delle conoscenze che era già presente attraverso alcuni temi che non erano stati affrontati proprio della disciplina dell'archeologia e dell'architettura. Il bando, di cui è prevista una seconda edizione nel prossimo autunno, ha messo in paglio tre premi da 2.000 euro ciascuno. È un bando che permette di selezionare a livello nazionale delle tesi di laurea magistrale che si interessano alla nostra città. Questo ci serve per avere anche un archivio dei lavori che vengono dedicati a Prato e anche per sostenere i giovani meritevoli che hanno deciso di occuparsi di Prato affrontando tematiche centrali anche per il futuro del nostro territorio. Il Comune ha anche provveduto alla pubblicazione cartacea delle tesi e ha la messa a disposizione nelle biblioteche del PIN e della Lazzerini. È stato deciso di valorizzare queste attività di ricerca che vengono fatte spesso anche all'insaputa del territorio ma che invece hanno dei contenuti che hanno un grande interesse per il territorio stesso.